Spero che non ci siano problemi tecnici, vedo che mi fanno segno, va tutto liscio. Buongiorno, io sono Massimo Pronio, sono responsabile comunicazione della rappresentanza della Commissione Europea, alcuni di voi già mi conoscono, mi occupo di comunicazione e di eventi e di tutto quanto riguarda la diffusione delle politiche europee. Abbiamo deciso di puntare molto quest'anno su Europa Creativa, sui programmi per il sostegno alla cultura e abbiamo instaurato una proficua e fruttuosa collaborazione non solo con gli uffici della Direzione Generale di Bruxelles e dell'Agenzia di Bruxelles, la Direzione Generale EAC e l'Agenzia Eacea, ma anche con il Desk Nazionale che oggi è qui, con gli uffici di Roma, d'Europa Creativa e anche i loro uffici sul territorio. Poi ci risentiamo poi, ciao grazie. Senza dilungarmi oltre, do subito la parola alle colleghe che oggi ci illustreranno i nuovi programmi e i bandi che sono usciti da poco. La prima è la collega di Bruxelles che prenderà la parola, Fiona Deus-Frandi, che è la coordinatrice proprio della Col, che ci fa l'onore di essere qui in presenza e poi darò la parola alla dottoressa Damante, o prima Anna Conticello, lo Desk e poi la dirigente, la dottoressa, la direttrice Damante. Grazie e buon lavoro. Buongiorno a tutti. Stiamo facendo un aggiustamento tecnico, poi iniziamo. Allora, io mi chiamo Fiona Deus-Frandi e lavoro all'Agenzia Educazione e Cultura e Media, che si occupa appunto della gestione dei programmi di Europa Creativa. Sono coordinatrice di uno dei grandi bandi dei progetti di cooperazione, che è il bando più grande, che ha più budget all'interno di Europa Creativa, la sezione Cultura. Qual è la differenza fra la nostra agenzia e la commissione? Noi ci occupiamo di tutto quello che è pubblicazione dei bandi, selezione dei progetti e monitoring dei progetti. Invece la commissione si occupa della parte più politica, delle politiche culturali. Sapete che comunque la commissione non ha competenza in ambito politico, che rimane sempre in tutti gli Stati membri. Quindi la commissione può solamente fare delle cose in aggiunta di quello che viene fatto a livello nazionale. Le cose in aggiunta sono promuovere la cooperazione fra differenti organizzazioni in differenti paesi. Quindi vedrete un pochino, queste sono un po' tutte le azioni che vengono proposte su Europa Creativa, vanno in questa direzione. Prima di tutto volevo darvi una visione di cos'è Europa Creativa, perché non so se conoscete o non conoscete, così sapete cos'è. Europa Creativa è il programma, non so perché tutte le cose sono un po' mosse, comunque si occupa di due obiettivi generali. È il programma che ha come target il settore culturale e creativo. Ha due obiettivi generali. Uno è salvaguardare, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica e anche il patrimonio culturale europeo. E dall'altra parte rafforzare il settore culturale e creativo per potenziare la propria competitività e promuovere anche il lavoro in quei settori. Il budget è di 2,4 miliardi, che è una crescita incredibile rispetto alla programmazione precedente, più o meno del 60%. Ci sono tre azioni diverse che sono inglobate nel programma di Europa Creativa, che è un'azione media, che vedete lì sotto, vedete il logo di media quando finiscono alcuni film, quella è la parte audiovisiva. La parte cultura, che non vedete perché si è tutto mosso, non so perché, che ingloba tutti gli altri settori culturali e creativi, tranne l'audiovisivo. E poi c'è la sezione cross-settoriale, che finanzia delle azioni congiunte per tutti i settori culturali e creativi, e anche finanzia, i desk di Europa Creativa, di cui vedete qui delle rappresentanti. E anche alcuni bandi trasversali. Quali sono gli obiettivi specifici? Quindi prima avete visto gli obiettivi del programma Europa Creativa in generale, invece qui andiamo a vedere quali sono gli obiettivi specifici per la parte cultura. Ok, perché io qui vi presento la parte cultura, Zoom in cultura. Gli obiettivi specifici è quello pronto di valorizzare la cooperazione artistica e culturale a livello europeo, per sostenere la creazione di opere, ma anche la diffusione di opere, la dimensione economica, sociale e esterna di settore culturale e creativa, ma anche l'innovazione e la mobilità. Quindi quello che si vuole fare è azioni che promuovono proprio lo scambio per poter aiutare il settore culturale e creativo a progredire. Vedete qui ci sono tutta una serie di priorità che fanno parte appunto del programma, durante questo programma di periodo, durante il periodo 21-27, rafforzare la cooperazione transnazionale, vi ho detto, importantissimo, noi possiamo solamente fare delle cose che rafforzano appunto questa dimensione internazionale, lo scambio fra differenti organizzazioni, aumentare l'accesso e la partecipazione alla cultura, in effetti quello che chiamiamo audience development, scusate alcune parole mi vengono in inglese, perché le uso sostanzialmente sempre in inglese, l'accesso e l'aumento del pubblico è una delle azioni che sono state inserite con la programmazione precedente, ma se ne è sentito veramente il bisogno nel settore culturale creativo e continua a essere una delle priorità appunto sulla sezione cultura e come vedrete dopo nelle statistiche che vi farò vedere, molti progetti comunque lavorano sull'audience development, quindi è molto importante, soprattutto su alcuni settori come può essere ad esempio la musica dal vivo, oppure tutto quello che è arti performative, insomma. Altra priorità è quella di promuovere la resilienza sociale e migliorare l'inclusione sociale, in effetti attraverso la cultura molto si può fare per l'inclusione sociale, non so, parlare di tematiche appunto sociali, coinvolgere e sensibilizzare il pubblico a queste tematiche, ma anche coinvolgere dei target group come i migranti nelle differenti azioni culturali e creative, quindi ci sono tante cose che possono essere fatte con la cultura. per quel che concerne appunto il dialogo interculturale ad esempio. Incrementare la capacità del settore culturale creativo nel coltivare il talento, innovare, prosperare e generare occupazione e crescita. Pensate solamente a un artista emergente che può avere una piattaforma europea e far vedere la propria arte in un paese o altro del proprio paese, come può cambiare le sue prospettive professionali in futuro, quindi si aiuta appunto artisti e anche professionisti in questo senso. Rafforzare l'identità e i valori europei, far vedere anche all'estero ad esempio quali sono la ricchezza dei patrimoni, il patrimonio culturale e creativo di tutti i paesi europei. E poi promuovere lo sviluppo delle capacità. Vi ho detto, capacity building è una delle priorità più importanti, perché dà l'opportunità a organizzazioni piccole o ad artisti o a professionisti di cambiare, di progredire, di essere visibili e quindi di aumentare la propria opportunità di lavorare attraverso la cultura, nell'ambito culturale. E poi la relazione internazionale mediante la cultura, la cultura è uno dei mezzi, lo potete vedere adesso ultimamente, si è sentito molto anche con Mundial Cult, che la cultura, come la cultura può essere utilizzata nelle relazioni internazionali. Quindi elemento, anche questo, molto importante. Quali sono i settori culturali e creativi? Sono tutti i settori e le attività che si basano su valori culturali o espressioni artistiche e altre espressioni culturali. Possono comprendere tantissime aree differenti e i settori possono essere tantissimi. Non so perché le slide sono tutte sfasate. Comunque vanno dall'architettura, alla letteratura, alla musica, al design, al patrimonio culturale, insomma spazia tantissimo, inglobiamo tantissimi settori differenti. Quali sono le azioni di cultura? Abbiamo delle azioni settoriali, delle azioni orizzontali e delle azioni specifiche. Questa è la maniera in cui, appunto, le priorità vengono perseguite. Per quel che concerne le azioni orizzontali, sono dei bandi a cui possono partecipare praticamente organizzazioni di tutti i settori diversi, culturali e creativi. Il progetto di cooperazione è quello di cui io sono la coordinatrice, ve lo presenterò dopo, più tardi. Le reti europee di organizzazione culturale, questo è un bando che viene pubblicato una volta ogni 3-4 anni. è stato pubblicato uno nel 2021, quindi non le vedrete nei prossimi due anni. Le piattaforme per la promozione di artisti emergenti, anche lì è un bando che viene pubblicato solamente due volte in tutta la programmazione. L'anno scorso è stato il bando l'anno scorso. Poi abbiamo un sostegno a soggetti culturali europei, è un bando che l'anno scorso è stato fatto specificatamente per le orchestre. Anche questo è un bando che viene fatto solamente due volte in tutta la programmazione. E poi la mobilità degli artisti, che, by the way, è stato lanciato qualche giorno fa dalla commissaria Gabriel, e permette, su base di un programma pilota, che si chiamava Ipotunus, di promuovere la mobilità dei singoli artisti, o dei singoli professionisti del settore culturale e creativo. C'è un bando aperto, è un bando che verrà fatto in maniera regolare, quindi molto interessante andarlo a vedere. Si chiama Culture Moves Europe. Andatolo a vedere nei social network, ultimamente l'hanno molto pubblicizzato, però è un bando molto interessante per il singolo artista. Un artista, non so, musicista, vuole andare a fare una residenza in Svezia per due settimane con un output specifico. Ecco, questa è una delle opportunità che hanno. Un pochino come Erasmus è stato nel settore dell'educazione. Questo vediamo cosa diventerà comunque. Poi ci sono delle azioni specifiche, azioni specifiche, alcune di queste le conoscete, suppongo come le capitali europee della cultura, ma anche le giornate europee del patrimonio, il marchio del patrimonio europeo, i premi culturali, ci sono alcuni premi che vengono dati soprattutto nel settore dell'architettura, della musica e della letteratura. Tutte queste azioni specifiche vengono gestite dalla comunità europea, invece tutte le altre azioni vengono gestite dalla mia agenzia, attraverso appunto dei bandi aperti. focus sulle azioni settoriali, andiamo a vedere, appunto c'è nella nuova programmazione, un'attenzione a dei settori specifici e alcuni di questi settori che vedete qui sono la letteratura, quindi li bando su traduzione letteraria, il settore della musica, qui ci sono dei bandi come Music Moves Europe, di cui vi presenterò più tardi, e Perform Europe per le arti performative. Vi darò una visione di cosa sono questi bandi, più nel dettaglio. Prima però vi do un pochino di un overview dei ultimi bandi del 2021-2022 per darvi un'idea di cosa selezioniamo. Meno male che la grafica non si è spostata completamente. Allora, come potete vedere, qui siamo sui band 2021, selezioniamo tanti progetti nei differenti bandi, progetti di cooperazione è quello che riceve più progetti in generale ed è quello anche in cui finanziamo più progetti. Avete visto, nel 2021 abbiamo selezionato 124 progetti, su 468, quindi c'è una ratio selection rate di 26%. La ratio è più interessante per gli altri bandi perché sono dei bandi molto più piccoli, vedete che molti meno progetti perché sono dei bandi che hanno bisogno di più struttura. I network, devi avere un certo network già stabilito. Per le piattaforme sono praticamente un network che ha una finalità molto specifica che è quella della promozione dei artisti emergenti e sono delle piattaforme per settore. Quindi ci sono varie piattaforme della musica, del cultural heritage, eccetera, eccetera. I bandi di letteratura sono dei bandi annuali e lì si promuove la traduzione letteraria. Non ve la presenterò perché avevo troppe cose da presentare e vi dovevo restringere. Poi Pace invece ha il sostegno a soggetti culturali europei. Nel 2021 è stato il sostegno alle orchestre e abbiamo selezionato lì quattro progetti. Per quel che concerne i settori vi voglio dare un po' un overview di quali settori vengono finanziati per farvi vedere comunque la ricchezza di questi bandi che permettono di finanziare tutti i settori culturali creativi. Come al solito i numeri sono andati in giro, non so perché questo computer non gli piace la mia presentazione. Vedete molto alto musica e opera, finanziamo tantissimo il settore musicale, molto anche il settore del libro e della letteratura perché c'è un bando specifico che è per la traduzione letteraria. Quindi vedete che aggiungendo tutti questi il settore del publishing finanziamo tanti progetti. Le arti performative anche e nelle arti performative il teatro riceve molto finanziamento. Andiamo a vedere ad esempio adesso i risultati per i bandi 2022 sono dei risultati ancora provvisori perché siccome non abbiamo ancora firmato i contratti con questi progetti perché i risultati sono appena usciti noi non possiamo già dire che sono finanziati finché non hanno firmato i contratti. Come potete vedere nei progetti di cooperazione abbiamo avuto un'esplosione, quasi 700 progetti 45% più dell'anno precedente quindi molto lavoro per me e il numero comunque di progetti selezionati sono 169 quindi il settore culturale e creativo è molto contento perché comunque non abbiamo mai selezionato così tanti progetti come quest'anno. Il bando di letteratura appunto riceve molto meno progetti ne seleziona comunque un bel po' quindi il tasso di finanziamento è molto alto, 36%. Adesso una piccola visione di quello che abbiamo finanziato per settore in questi bandi del 2021 vedete le arti performative vi ho detto anche prima che sono molto alti soprattutto il teatro finanziamo tanti progetti di teatro musiche e opere anche tantissimi progetti che vengono finanziati poi comunque dovete considerare che per i progetti di cooperazione ad esempio ci sono tre categorie diversi quindi il budget che poi va a finire nei differenti settori cambia ve lo farò vedere più tardi. In questi progetti finanziati che abbiamo selezionato nel 2022 più di 860 organizzazioni singole sono coinvolte quindi comunque nonostante il numero non sia enorme l'impatto potenziale è molto molto interessante e copre tutti i paesi che fanno parte di Europa creativa che non sono solo i paesi stati membri dell'Unione Europea ma ci sono anche degli altri paesi che partecipano. Risultati per l'Italia questo è per le mie amiche qui italiane quindi sono andata a vedere tutti i partecipanti dei differenti bandi no, dei bandi di progetti di cooperazione scusate e potete vedere che nel 2021 310 partecipanti quindi parliamo di coordinatori e partner nei progetti di cooperazione 83 sono stati selezionati e quest'anno ne abbiamo selezionati 96 ma ne abbiamo ricevuto 540 quindi il success rate degli italiani è sceso in questo senso comunque gli italiani sono i progetti che hanno ricevuto più finanziamenti in prospettiva non volevo darvi altre statistiche se no ci perdiamo troppi adesso vi do un po' di informazione sui bandi aperti abbiamo tre bandi aperti in questo momento sono dei bandi abbastanza specifici perché cerchiamo la maggior parte delle volte di un'entità che si occupa poi di ridistribuire fondi attraverso dei bandi che loro stessi devono fare per raggiungere delle organizzazioni più piccole nei differenti settori di competenza di questi bandi abbiamo Perform Europe per cui scadenza è l'8 novembre abbiamo il support to Ukrainian displaced people and the Ukrainian cult and created sectors che è un bando di cooperazione che ha come target artisti dell'Ucraina e la diffusione della cultura per gli ucraini anche che sono andati altrove per le conseguenze della guerra la scadenza è il 29 novembre l'ultimo è il Music Moves Europe di cui mi occupo io la scadenza è il 12 gennaio però vedrete sono dei bandi abbastanza particolari per quello io poi vi farò anche una presentazione del bando di cooperazione europea perché è quello in cui c'è più possibilità per tutti i differenti settori e anche per più operatori del settore culturale creativo quali sono gli aspetti comuni di questi bandi? sono basati su costi effettivi invece tutti gli altri bandi su Europa Creativa sono basati su se non hai la telecamera però volendo se fai l'attività sui costi effettivi il tasso di finanziamento è di 90% quindi solo il 10% deve essere messo dal partenariato quindi è interessante ma è anche così alto perché devono essere fatte tutta una serie di cose tra cui il finanziamento è cascata quello che vi dicevo che questi progetti devono a scelto volta pubblicare dei bandi i cui beneficiari saranno piccoli operatori nel settore di competenza questioni trasversali sono delle questioni che sono state inserite con l'Europa Creativa 2021-2027 vuol dire che ogni progetto che viene finanziato su Europa Creativa deve spiegare come contribuisce a queste questioni trasversali che sono inclusione, diversità e ugualianza di genere e l'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici è veramente l'idea di dare veramente una spinta al settore culturale creativo per parlare e per pensare anche nell'implementazione del proprio progetto a come poter contribuire a queste questioni che sono importantissime penso che siete tutti d'accordo bandi futuri progetti di cooperazione europea vi ho detto che è il bando che ha più successo in cui 80% del budget di Europa Creativa Cultura viene che ha il budget più alto di tutti sarà pubblicato il 17 novembre vuol dire che ci sto lavorando tranquilli ce la farò e la scadenza sarà 23 febbraio quindi c'è un buon tre mesi di tempo per preparare i propri progetti e il supporto alla traduzione letteraria sarà pubblicato il 15 novembre con scadenza il 21 febbraio tutti i bandi di Europa Creativa vengono pubblicati su un unico portale che si chiama il Funding Antenne Opportunity che è il portale in cui vengono pubblicati anche tutti gli altri bandi sotto tutti i programmi europei che sia Erasmus che sia Horizon Europe tutti i bandi quindi ricordatevi che è un entry point super super importante ok pausa parliamo di musica allora è un bando che è stato pubblicato appunto a inizio settembre con un budget di 4 milioni e mezzo la base di questo bando è un'azione preparatoria che è stata lanciata nel 2015 dalla commissione europea che si chiamava appunto Music Moves Europe e aveva come fine quello di vedere quali erano i bisogni del settore musicale e come poter aiutare ancora di più il settore musicale al di là di tutti gli altri bandi cioè dei bandi che sono ovviamente cioè delle azioni specifiche per il settore musicale quindi questo è il background l'obiettivo di questo di questo bando è appunto la distribuzione sostenibile della musica con un'attenzione alla musica dal vivo rafforzare la competitività l'innovazione la diversità nel settore musicale europeo e qui vi ho detto sono dei bandi abbastanza specifici perché qui cerchiamo un consorzio solo quindi verrà finanziato un solo progetto che deve promuovere a sua volta la competitività l'innovazione e le diversità all'interno del grande settore musicale europeo attraverso un sistema di sostegno finanziario quindi a loro volta loro devono pubblicare dei bandi più piccoli con dei budget più piccoli ma che permettono di arrivare al piccolo operatore che lavora nel settore musicale che non ha accesso al grande bando perché è troppo lontano non capisce una domanda un consorzio è uno tra i paesi adesso le faccio vedere ecco allora ci sono due attività specifiche che devono essere fatte dal consorzio la prima appunto è questo schema finanziario che ridistribuisca i fondi a dei terzi attori però devono essere attivi nel settore musicale quindi sono dei bandi per operatori del settore musicale e il secondo è un'attività di rafforzamento delle capacità a beneficio del settore della musica dal vivo quindi da una parte bisogna fare questi bandi quindi essere un po' nell'operational di saper pubblicare dei bandi ricevere le applications e trattarle e dall'altro però anche fare delle capacity building activities per rinforzare le capacità del settore musicale parlare di tematiche per esempio che sono relative e importanti per il settore musicale per rinforzare appunto le capacità e tutte le attività devono essere concentrate su tre temi di sviluppo del business che sono la diretta streaming la cooperazione tra sale di musica e il music export sono delle tematiche specifiche del settore musicale ed è quello che noi vogliamo far sviluppare i bandi minimo tre bandi devono essere fatti che combinano ogni volta o c'è una combinazione di queste tre tematiche oppure una alla volta insomma c'è scritto più dettaglio nel bando il bando è la bibbia se voi siete interessati a un bando dovete assolutamente andarvelo a leggerlo studiarlo bene perché lì c'è scritto tutto quello che viene domandato ci sono scritti i criteri per cui un progetto viene selezionato eccetera eccetera quindi state attenti criteri di leggibilità per questo bando in specifico deve essere c'è bisogno di un consorcio di minimo due partner di due paesi diversi ed ecco qui la risposta alla sua domanda quindi solo due partner di due paesi diversi devono essere ovviamente delle entità giuridiche ed essere stabiliti di uno dei paesi ammissibili i paesi ammissibili sono tutti gli stati membri poi ci sono altri paesi Serbia Macedonia del Nord Tunisia c'è tutta un'altra serie di paesi non me li sto a elencare tutti però se cliccate su vi darò poi le slide se cliccate su sono dei hyperlink e troverete tutto quanto quello di cui avete bisogno il coordinatore deve esistere giuridicamente per almeno due anni la durata massima di 36 mesi e molto importante questo sostegno finanziario a terzi ci sono delle condizioni che bisogna seguire vi invito a guardare nel bando stesso l'impatto ribadisco selezionare un unico progetto capace appunto di avere comunque una portata più ampia nel settore appunto musicale in Europa e il sostegno finanziario deve essere distribuito al minimo 60 beneficiari quindi vogliamo che minimo 60 operatori del settore musicale in tutta Europa possano beneficiare di questi bandi vedete un pochino quale sono le nostre la nostra roadmap e quando faremo la selezione andiamo adesso zoom settore diverso perform Europe siamo adesso nel settore delle arti performative perform Europe si basa su un progetto pilota anche quello che è stato implementato tra il 2020 e il 2021 dando opportunità a artisti di compagnie a fare a fare tournée e diversificare i loro programmi vedere come poter fare una programmazione anche digitale tutto questo per tutto l'impatto che ha avuto il Covid nel settore delle arti performative in questo bando il settore musicale è escluso ci sono dei bandi specifici per la musica quindi qui parliamo di arti performative quindi teatro danza circo parliamo di questi qui l'obiettivo è sostenere appunto la tournée transfrontaliere la distribuzione digitale delle opere delle arti dello spettacolo in modo sostenibile inclusivo eco e innovativo quindi una promozione anche di come poter fare una mobilità digitale in questi settori delle arti performative le domande devono tener conto di alcune attività appunto ad esempio contribuire alla creazione di condizioni che aiutano il settore a crescere in senso sociale umano artistico bisogna includere contesti geografici e socio-economici diversi incorporare se è possibile appunto artisti e professionisti ucraini in questo sostegno insomma ci sono un po' di condizioni da seguire per questo perform Europe devo dirvi la verità sono dei bandi molto specifici quindi io non so quanto ci possa essere un interesse vedete qui è di nuovo le condizioni qui è un'unica organizzazione che può anche mandare la propria candidatura oppure un consorzio di nuovo devono essere entità giuridiche e il sostegno finanziario a terzi di nuovo è molto importante perché c'è bisogno di una distribuzione anche qui quindi finanziare dei progetti specifici nel settore delle arti performative l'impatto previsto appunto di sostenere un unico progetto e di ridistribuire questi fondi a 35 beneficiari come potete vedere il meccanismo è un po' simile e quando andiamo all'ultimo bando che è quello dei progetti di cooperazione per il supporto all'Ucraina qui è un bando anche questo abbastanza specifico è un bando di 5 milioni ovviamente è scaturito da tutto quello che sta succedendo in Ucraina e l'obiettivo è quello di aiutare organizzazioni culturali creativi ucraine ma anche artisti e professionisti ad affrontare alcune sfide quindi aiutare anche ucraini che si sono che si sono dovuti muovere dall'Ucraina insomma abbiamo due obiettivi uno a medio termine e uno a breve termine quello a breve termine è quello di sostenere artisti dell'organizzazione culturale per creare e mostrare le loro opere d'arte in Ucraina e nei paesi partecipanti quindi dare la possibilità di visibilità delle opere ucraine in Ucraina stessa o in altri paesi dell'Europa creativa e anche aiutare gli sfollati particolarmente i bambini ad avere accesso alla cultura e facilitare loro l'integrazione delle nuove comunità attraverso la cultura dimensione molto molto importante ad esempio dei progetti di cooperazione abbiamo finanziato un progetto molto interessante che vuole appunto tradurre alcuni libri ucraini per renderli accessibili in tutti i paesi europei per conoscere anche la cultura ucraina nel contesto in cui ci sono tanti bambini ucraini ad esempio nelle scuole quindi come vedete è molto importante tutto questo scambio che viene promosso attraverso questo bando il risultato invece l'obiettivo a medio termine è quella di preparare una ripresa post bellica dei settori culturali ucraini attraverso una valutazione dei loro bisogni e del rafforzamento delle capacità e pianificazione degli investimenti e anche a preparare a formare dei professionisti del patrimonio culturale ucraino per la protezione del loro patrimonio stesso quindi un bando anche questo abbastanza particolare si sosterranno in questo caso tre progetti a seconda dell'obiettivo a cui si aderisce vedete c'è del budget diverso per i differenti obiettivi chi può partecipare qui il minimo composizione dei consorci di due cioè c'è bisogno almeno di un organizzazione stabilita in Ucraina questo veramente per fare il ponte e anche qui si parla di ridistribuzione del budget a organizzazioni o professionisti ucraini per poter fare tutto quello che appunto il bando dà come possibilità l'impatto previsto appunto è quello di selezionare tre progetti però l'impatto in diretto è molto più grande insomma vedete un po' qui le tempistiche è un bando che viene fatto abbastanza velocemente con l'idea che abbia la possibilità di subito lavorare e dare l'opportunità agli ucraini e per insomma un impatto immediato vista la situazione adesso vi do un'idea dei progetti di cooperazione europea che è il bando che riscuota più successo quello un pochino più aperto dà veramente tanta possibilità agli operatori culturali e creativi ed è il bando che viene pubblicato annualmente quindi se uno non riesce un anno c'è la possibilità l'anno dopo anche perché noi quando mandiamo le lettere di notifica diamo anche dei dettagli su perché il progetto non è selezionato quindi un progetto può rilavorare il proprio il proprio progetto e rimandarlo l'anno dopo allora cosa sono i progetti di cooperazione progetti transnazionali parola chiave cooperazione appunto cooperazione di paesi diversi che lavorano insieme su un progetto comune e danno loro la possibilità di fare tantissime cose molto aperto anche qui coprodurre cooperare sperimentare innovare essere mobili la mobilità mobilità per un fine un artista emergente viene mandato da un festival italiano a un festival europeo perché un festival francese ad esempio perché se un artista è pronto può avere un suo pubblico in Francia e accrescere la propria possibilità di lavorare come artista anche in futuro quindi capacity building l'azione mira appunto a migliorare l'accesso anche a delle opere culturali creative attraverso una mobilità di un artista non si promuove solamente l'artista stesso ma anche la sua opera o abbiamo anche dei progetti delle arti visive in cui si sono delle expositions che vengono fatte insieme insomma tutto questo è cooperazione imparare crescere pensate a un piccolo operatore culturale che per la prima volta lavora in un progetto di cooperazione deve lavorare con un partner rumeno tedesco e spagnolo capisce come lavorano altri operatori nella sua stessa situazione piccole società che si occupa di musica o di danza o di teatro impara dagli altri e lì si apre un mondo diverso ed è quello che vediamo soprattutto dei piccoli operatori che partecipano ai nostri progetti dicono mi ha cambiato veramente la prospettiva mi ha aiutato veramente a fare uno step più avanti i progetti di cooperazione possono riguardare un settore ma anche vari veramente devono definire nella nostra application form quali sono i settori e quella è una scelta molto importante perché su base di quello che noi attribuiamo il progetto a degli esperti esterni che valutano i progetti quindi è molto importante quali sono gli obiettivi due obiettivi anche questi abbastanza larghi ma molto pertinenti creazione e circolazione a livello transnazionale vi ho parlato prima di co-creazione ecco qui si può co-creare attraverso questo obiettivo circolare appunto la circolazione delle opere culturali e creative e degli artisti il secondo obiettivo zoom sull'innovazione qui è veramente dare l'opportunità ai settori culturali e creativi di coltivare i talenti di innovare prospettare e generare occupazione e crescita come vi ho detto un artista emergente che ha la possibilità di operare a un livello internazionale le cose cambiano insomma vedete qui ci sono sei priorità non andrò troppo nel dettaglio perché le vedrete nel bando che sarà pubblicato pubblico ve ne ho parlato prima audience development viene dalla programmazione precedente e molti progetti hanno bisogno di lavorare con il pubblico che è non solamente aumentare il pubblico ma anche diversificare convolgere dei target group che non sono convolti non so nell'opera ad esempio spesso progetti che finanziamo nel settore dell'opera vanno a fare delle azioni per i giovani per convolgere più giovani nel nel settore dell'opera e interessarli all'opera inclusione sociale appunto attraverso la cultura tanto può essere fatto per l'inclusione sociale sostenibilità importantissimo come gli operatori del settore culturale creativo possono contribuire al Green Deal ma non solo come possono loro stessi integrare più pratiche all'interno del proprio settore culturale creativo ma come possono anche loro sensibilizzare il pubblico su tematiche relative al Green Deal il digitale avete visto il grande cambio digitale che ci sono stati in questi ultimi anni pensate a come la musica veniva ascoltata 15 anni fa e come viene ascoltata adesso quindi questa grande transazione digitale il settore culturale creativo ha ancora bisogno di tempo e spazio per poter allinearsi e quindi l'azione digitale è molto importante la priorità digitale la dimensione internazionale viene vissuta sono molto sono troppo entusiasta no cosa dimensione internazionale sapete vi ho detto prima come la cultura può essere usata nei contesti internazionali ma l'idea di questa priorità è anche dare a piccole organizzazioni che non sono mai stati a livello non hanno mai lavorato a livello europeo la possibilità di farlo per la prima volta e quindi crescere le proprie potenzialità abbiamo appunto una priorità anche settoriale per alcuni settori che sono stati menzionati nella base legale queste sono la musica il settore dell'editoria della letteratura il patrimonio culturale l'architettura la model design e il turismo culturale sostenibile sono stati aggiunti questi ultimi due negli ultimi due bandi giusto per complicare un pochino più un bando che è molto complesso nella sua struttura questioni trasversali ve l'ho detto prima anche nei progetti di cooperazione tutti i progetti devono spiegare come contribuire a queste questioni trasversali che sono molto molto importanti quali sono i criteri di elegibilità sempre entità giuridiche non potete mandare se siete delle persone singole dovete passare attraverso un'organizzazione sono stabiliti negli stati membri o in un paese terzo vi ho detto prima alcuni esempi comunque se cliccate poi lo troverete tutta la lista e poi avremo un minimo consorzio un minimo composizione di consorzio che è di 3 5 10 partner adesso vi farò vedere nella slide dopo la differenza fra queste tre categorie di progetti il coordinatore deve esistere giuridicamente per due anni e nel nel bando ci sono scritte quali sono le attività elegibili che praticamente sono tutte attività tranne quelle che sono puramente audiovisive cioè noi non possiamo finanziare un film che è sul sulla non mi viene in italiano girare un film perché quello viene finanziato attraverso la parte media di Europa Creativa eccoli qui tre categorie di progetti appunto molto eclettico questo bando tre categorie che permettono appunto anche agli operatori piccoli di poter per la prima volta lavorare su un progetto appunto con la categoria piccola che ha bisogno solamente di tre partner di tre paesi diversi il finanziamento europeo è di 200.000 euro e il cofinanziamento è dell'80% cofinanziamento molto interessante nella programmazione precedente per la stessa categoria era del 60% quindi abbiamo aumentato molto considerando anche l'impatto che ha avuto il covid sul settore culturale creativo devastante qui abbiamo bisogno abbiamo dovuto abbiamo voluto aiutare il settore culturale creativo media scala è il nuovo bando è il nuovo nuova categoria abbiamo bisogno di cinque partner di cinque paesi diversi si può chiedere fino a un milione che rappresenta il 70% del cofinanziamento questo è appunto la categoria nuova ha molto molto successo tanti progetti sono mandati in questa categoria e larga scala dieci partner con dieci paesi diversi diamo fine a due milioni e il cofinanziamento del 60% qui vogliamo un impatto il più ampio possibile in Europa quindi un partenariato che copre gran parte dell'Europa per questi progetti di grande grande larga scala il budget per 2023 è di 60 milioni era 68 milioni del 2022 quindi rimane un budget molto molto alto vedete che c'è una ripartizione del budget per categorie però è sempre il comitato di valutazione che decide a seconda della qualità dei progetti nell'ultimo bando 2022 abbiamo dato più soldi ai piccoli ad esempio e più soldi ai medi perché per i medi la categoria era molto alta e per i piccoli perché abbiamo voluto ovviamente dare un segnale dell'importanza di finanziare questi piccoli progetti e il 20% riservato ai settori specifici ho finito posso respirare potete respirare anche voi voglio solamente darvi un po' di link così quando avete queste slide potete cliccare uno è questo portale comune in cui avete tutti i bandi pubblicati dalla Commissione Europea guardate perché ci sono tante possibilità di finanziamento per il settore culturale non solo su Europa Creativa per quello utilizzate questo Culture EU Funding Guide se cliccate lì con tre clic riuscite a vedere quali sono le opportunità per i differenti settori e differenti bisogni e vedrete che ci sono dei bandi per cultura anche su Horizon Europe su Erasmus Plus ed altre cose quindi andate a guardare i desk link ai desk abbiamo un network di desk che appunto sono lì per aiutare dare informazione per tutti quelli che vogliono mandare progetti da noi e vi ho mandato dei link uno è la nostra database in cui pubblichiamo tutti i progetti che sono finanziati e poi tutta una serie di pubblicazioni che abbiamo fatto che vi possono ispirare se dovete creare un progetto questo è quanto grazie allora volevo intanto dire grazie a Fiona perché ha illustrato in maniera esemplare questo nuovo bando di Europa creativa che capisco costruisce molto sull'esperienza del bando precedente 2014 2020 e vedo un sacco di innovazione quindi dall'esperienza dei progetti che si sono ricevuti che sono arrivati sono state rimodulate alcune misure è stata creata la misura media quindi diciamo è incredibile come Bruxelles riesca sempre a forbattare le esigenze magari non immediatamente però poi nel tempo riesce sempre a inquadrare quella che è la richiesta quindi volevo dire se adesso avete delle domande qua i presenti e non so se ci sono delle domande nella chat o online che mi possono fornire i nostri tecnici intanto Claudia se vuoi fare una domanda ti chiederai di venire qui perché se no le oltre 100 persone collegate ok funziona bene allora vai così buongiorno a tutti io sono Claudia Salvi la coordinatrice del centro Europe Director Roma Innovazione noi lavoriamo molto sulla diffusione dell'informazione sui finanziamenti diretti in quanto gestiamo una banca dati programmi comunitari e anche una banca dati bandi dove chiaramente inseriamo tutti questi bandi che peschiamo dal portale EU Tender Portals che potrebbe sembrare quasi una duplicazione ma in realtà non lo è perché uno degli sforzi che noi cerchiamo di fare di tradurre queste schede un po' in italiano per dare una prima idea del bando perché avendo noi il contatto diretto con gli utenti uno dei problemi che ci viene sempre un po' posto è il fatto che poi la documentazione sia in inglese e non tutti hanno dimestichezza con altre lingue straniere quindi noi cerchiamo di fare questo primo sforzo di fornire una banca dati dei finanziamenti europei in italiano e poi creiamo queste schede bando in italiano in modo da poter facilitare una prima lettura che poi twittiamo mandiamo su LinkedIn sui social appunto per diffondere l'informazione sul territorio io volevo fare una richiesta perché un altro degli elementi di complicazione è la poca dimestichezza nell'utilizzo del EU Funding Entenders Portal che noi sappiamo è un portale nuovo so che la Commissione europea esiste già da qualche anno però insomma ha avuto prima c'era il Cordis poi man mano è stato creato questo portale qui però un altro dei problemi che ci hanno rappresentato non insomma non è semplicissimo per tutti capire il funzionamento del portale so che la Commissione europea ha organizzato delle giornate informative però in lingua inglese per spiegare il funzionamento del portale lo scorso anno siccome noi abbiamo fatto alcune puntate nell'ambito di alcune lezioni di Europa dedicate ai finanziamenti europei alla progettazione come si presenta una proposta di progetto ho cercato di entrare in contatto con qualcuno degli EU Funding Entenders Portal per organizzare una presentazione in lingua italiana del portale volevo chiedervi se ci potevate dare un aiuto perché questo aiuterebbe molto gli utenti nell'avvicinarsi a questi finanziamenti diretti perché altrimenti si rischia che siano sempre i soliti consorsi che presentano le domande e di lasciare sempre esclusi i casomai più piccoli quindi questa era un po' la richiesta e poi chiaramente questo materiale che ci fornite noi ora lo divulgheremo lo inseriremo all'interno sia della banca dati ma lo twitteremo pure così come se c'è la registrazione della giornata di oggi volevamo metterle il link a disposizione degli utenti sulla nostra banca dati in modo da poter dare più visibilità a questa giornata non so se vuole rispondere tu ma purtroppo il funding in opportunity di portal è di competenza di è una cosa abbastanza tecnica anch'io sto imparando a usarlo quindi eh eh sì infatti però è abbastanza non so come poter aiutarla in questo senso vedrò cosa posso fare ma io non non ci occupiamo assolutamente di quello ognuno ci occupa di una parte e noi il tender lo utilizziamo appunto più che altro utilizziamo il back office e queste cose qui ma non siamo a conoscenza nel dettaglio anzi per esempio quando noi abbiamo dei beneficiari che devono fare tutta una serie di azioni appunto nel funding and portal chiediamo all'area che è la l'agenzia esecutiva della ricerca che si occupa appunto di tutta quello che è validazione delle entità giuridiche di fare la presentazione perché noi non siamo competenti comunque vedo se riesco a trovare qualcosa altre domande ci sono delle domande dalle persone che sono collegate ok allora possiamo dare la parola a Dana Conticello che è il test nazionale Europa Creativa vai Anna mi sentite? sì allora buongiorno a tutti io sono Anna Conticello e sono il project manager dell'ufficio cultura del desk Italia Europa Creativa un attimo che ok come ha già detto Fiona in precedenza i desk nazionali sono un network quindi il desk Europa Creativa fa parte di questa rete distribuita di 38 paesi che partecipano al programma Europa Creativa quindi non esclusivamente gli stati membri ma anche gli altri stati che partecipano al programma abbiamo visto anche extraterritorio europeo con la Tunisia che cosa facciamo diamo informazioni facciamo assistenza gratuita a chi intende partecipare ai bandi di Europa Creativa o comunque a chi anche in forma più generale cioè a chi non conosce il programma non conosce i programmi europei e vuole avere ulteriori informazioni diamo aggiornamenti regolari su cosa avviene nel mondo della programmazione europea e soprattutto per i fondi di finanziamento diretto nel settore della cultura e dell'aglio decisivo e aiutiamo gli operatori culturali e creativi che ci contattano anche a diciamo proporsi come partner o a trovare un partner perché ovviamente siamo collegati ad una rete e dialoghiamo tra di noi ci sono anche degli strumenti che troviamo appunto all'interno del portale funding and tenders che si chiama che si chiama proprio partner search ma se ci contattate spesso possiamo essere di aiuto ulteriore proprio perché accediamo a questa rete il desk italia europa creativa è coordinato dal ministero della cultura direzione generale creatività contemporanea e la mia coordinatrice Maria Liusamante poi vi spiegherà meglio in partenariato con Cinecittà SPA quindi ha un ufficio cultura all'interno della direzione generale creatività contemporanea composto da personale del ministero e invece i tre uffici media uno a Roma uno a Torino e uno a Bari che sono invece che appartengono a Cinecittà questo è un partenariato felice dura dal 2014 e grazie alla direzione generale creatività contemporanea il nostro accordo di partenariato durerà fino a tutta la fine del 2027 l'ufficio cultura si trova presso la sede della direzione generale creatività contemporanea via di San Michele 22 poi alla fine avrete tutti i contatti c'è una slide che vi lascerò per questo facciamo quindi assistenza tecnica gratuita promuoviamo online e offline il programma attraverso workshop seminari infodei e realizziamo studi sull'impatto del programma Europa Creativa per le organizzazioni italiane che come che tipologia è l'assistenza tecnica generale richieste semplici come vi ho detto prima specifica quindi aiutiamo anche a capirlo il portale funding and tenders per rivolgersi a chi ha fatto la domanda cioè noi lo adoperiamo come utenti io personalmente dal 2012 perché prima lavoravo per Horizon però il è sì non è facilissimo e non è proprio user friendly diciamo però diciamo per quel che serve nella partecipazione ci sono dei passi molto chiari e spesso quando organizziamo gli infodei dedicati ai bandi dedichiamo anche una parte a questo come contattarci per telefono attraverso la mail e attraverso questi due strumenti noi o rispondiamo alle mail se si tratta di domande semplici o telefonicamente oppure organizziamo dei veri e propri incontri sia in presenza soprattutto attraverso le piattaforme digitali questa cosa noi la facciamo dal 2019 perché è uno strumento più democratico la distanza geografica dal nostro desk può creare delle difficoltà per esempio a chi è di Cagliari perché deve comunque prendere un aereo mentre nessuna chi sta a Roma perché deve soltanto andare a spostarsi quindi è un modo democratico per essere vicini a tutti anche l'organizzazione degli infodei si possono inserire all'interno dell'assistenza tecnica quindi negli infodei diamo ovviamente illustriamo il bagno con vari livelli di approfondimento dalla da come preparare una proposal fino all'analisi dei criteri di elegibilità sia delle attività che si mettono in essere sia che vanno in essere ma soprattutto dell'eleggibilità dell'ente che intende partecipare dell'organizzazione diciamo non aiutiamo certo nella progettazione ma facciamo comprendere perché noi facciamo assistenza tecnica al bando ci ritengo a dirlo però è ovvio che molto spesso le domande riguardano il work packages cosa mettere quindi entriamo nei dettagli il work packages è una modalità di scrittura di progetto europea che ha ereditato Europa Creativa da Horizon e il budget anche arriviamo anche al budget noi come promuoviamo il programma organizzando incontri nostri spesso dedicati ai bandi o dedicati anche alle organizzazioni italiane vincitrici perché raccontino le loro esperienze andiamo a trovare i settori laddove si sono quindi non so fa l'architettura dell'architettura se vogliamo diciamo avvicinare il settore dell'architettura e del design per esempio ai bandi Europa Creativa di Europa Creativa soprattutto cooperazione o quello della musica o quindi incontriamo i nostri stakeholder nei loro luoghi di incontro facciamo partecipiamo anche a seminari o lectures presso università o master per diciamo dare informazioni chiare sul programma Europa Creativa e aggiornate quindi perché l'informazione sul programma sia molto chiara spesso anche abbiamo fatto cose con l'Anci perché per formare i funzionari a capire il programma il funzionario pubblico quindi e anche a qualora partecipi a un programma per esempio di cooperazione per partecipare in maniera più consapevole e workshop molti workshop e meeting con la rappresentanza italiana della Commissione europea come questo qui stiamo e gli Europe Direct per noi sono un punto di contatto molto importante e soltanto quest'anno abbiamo organizzato eventi con lo Europe Direct di Padova e Venezia con la Sicilia del Nord Est ritorneremo con lo Europe Direct di Palermo per l'evento di Palermo con anche gli Europe Direct per esempio della marca di Camerino quindi anche delle aree interne cioè abbiamo per noi è l'interlocutore per eccellenza lo Europe Direct anche a Firenze e proprio perché voi conoscete i territori quindi per noi è importantissimo e poi facciamo azioni di network anche con altri desk nazionali su argomenti specifici l'anno scorso l'abbiamo dedicato alla call traduzioni letterarie abbiamo organizzato un network un evento online con il desk portoghese del Lussemburgo la Spagna il Belgio la Danimarca e l'Olanda quindi eravamo un bel gruppo e adesso andremo a Vumex per la musica a Lisbona ed è anche lì insieme ad altri network e ne faremo ancora un evento in network fra due desk quello italiano e quello croato sul tema del Mediterraneo e della progettazione in questo tema per la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Pestum questo è un esempio di dove incontriamo i settori quindi per esempio a Luca Comics l'altro anno perché il settore del comics ancora in Italia progettava poco comics and games progettava poco in Europa creativa e abbiamo visto che quest'anno Luca Crea che è chi gestisce l'evento Luca Comics ha partecipato come partner in un progetto di cooperazione quindi è già una cosa positiva la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico ovviamente per il settore del patrimonio culturale e per il settore dell'editoria online abbiamo partecipato alla Bologna Children's Book Fair con 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 lo Europe Direct della Sicilia del Nord e Ovest abbiamo partecipato a un evento dedicato all'anno europeo della gioventù e questi sono altri esempi a Bari con Medipex sempre per la musica avete visto quanto è importante il settore della musica in tutta la programmazione 21-27 dall'introduzione di Fiona Vumex ve l'ho già detto saremo a Milano all'interno di LineCheck che è la conference per eccellenza del settore nel settore della musica music conference dedicate al settore e poi questi sono i prossimi appuntamenti saremo anche a più liberi più liberi quest'anno non saremo a Lucca Comics con cultura ma saremo a Lucca Comics con media perché i colleghi di media illustreranno in collaborazione un evento fatto in collaborazione con la rappresentanza italiana il bando per i videogames quindi siamo proprio in tema quindi l'altro anno abbiamo parlato di cultura quest'anno parleremo di media vi lascio solo con l'ultima slide che è quella che questo è lo studio sull'impatto del programma 14-20 dove quello che ha appena detto Fiona cioè l'importanza l'impatto sull'internazionalizzazione e l'impatto sulla nuove competenze che si acquisiscono è il più forte quindi è importantissimo cioè ritorna nel volume e questi sono i nostri siti web e se ci volete contattare ecco i contatti nostri grazie grazie Anna un applauso per favore perché volevo dire che come ha detto appunto Anna avremo altri due eventi insieme con con i nostri amici del desk nazionale cioè Luca Kobings a fine mese dove la commissione europea avrà uno stand e ci saranno appunto le presentazioni citate e noi abbiamo anche invitato dei fumettisti o dei disegnatori a venire al nostro stand e poi ci saranno alcune pubblicazioni che sono state fatte a tema europeo e poi più libri più liberi qui a Roma saremo assieme allo stand in varie operazioni di lancio di libri opere teatrali eccetera ci sono domande nella chat ci sono domande tra i nostri c'è una domanda per Fiona in realtà ah ok chi la dice l'ha già avuta vai Fiona ho bisogno però un attimo la leggo perché se no ha già bisogna degli occhiali a una certa età allora è una persona che ha mandato un progetto di cooperazione che non è stato finanziato perché non ci sono i fondi per finanziare tutti i progetti noi abbiamo un minimo threshold di qualità che è di 70 punti su 100 e i progetti che vanno al di sopra di questo threshold sono finanziabili però sempre nel limite del nostro budget quindi non possiamo selezionare tutti quelli che sono al di sopra dei 70 punti quindi questa persona chiede se visto che appunto ha superato quality threshold se può essere ripescato se qualcuno rinuncia allora noi già succede a volte che rinunciano per mancanza c'è un partner va via e quindi non trovano qualcuno per rimpiazzare quindi succede anche questa cosa allora la risposta è no perché noi già facciamo una lista di riserva e i progetti che sono nella lista di riserva vengono notificati quando notifichiamo tutti gli altri progetti quindi se lei non ha ricevuto abbastanza punti per essere nella lista riserva e la lettera dice che praticamente non è finanziato non c'è possibilità di ripescare quindi le consiglierei di mandare il progetto sul prossimo bando quello cui ho spiegato prima e che verrà pubblicato a novembre grazie c'è ancora una domanda sì buongiorno per chi è la domanda per la dottoressa Desfrandi spero sia corretta la pronuncia sono Gianmarco Genino faccio parte dello staff di città metropolitana di Roma volevo chiedere semplicemente sui progetti di cooperazione ho avuto modo di dare una rapida di occhiata a tutte le aree che vengono coperte di turia turismo e volevo sapere se rientrava tra le aree perché ho visto proprio di sfuggita anche il settore giornalismo perché io so che ci sono dei bandi specifici proprio rivolte al settore giornalistico di cui uno escaduto mi sava qualche settimana fa e volevo sapere ecco se rientrasse anche tra le aree prioritarie dei progetti di cooperazione eventualmente se si dovesse aspettare la colla specifica sul giornalismo lascio rispondere Anna perché non è nei progetti di cooperazione però ci sono le azioni trasversali ma spiegano allora sì abbiamo prima visto i tre strand cultura media e il cross settoriale all'interno del cross settoriale per tutto il 21-27 il programma Europa Creativa fa delle azioni mirate cioè promuove azioni mirate per il settore sia del giornalismo che della media literacy questo qual è il motivo il motivo è che dovremmo affrontare tutti un'azione seria contro il tema cosiddetto banalmente dei fake news quindi per la creazione di un giornalismo informato pluralista diciamo libero insomma così questo bando si chiama quello per il new journalism ed è per i giovani giornalisti e l'altro è media literacy sono tutte e due per la come si dice alfabetizzazione mediatica dei pubblici all'utilizzo dei media quindi questi due bandi sono scaduti nel cross settoriale usciranno anche negli anni successivi lo seguiamo sia noi del desk cultura che il desk media questa è un'attività di assistenza tecnica che noi facciamo insieme sia per quanto riguarda quelli sul giornalismo che per un altro cross settoriale molto importante che si chiama innovation lab che segue un'esperienza precedente che era bridging culture and audiovisual contents sul tema in cui si incrociano le tematiche della cultura e quelle dell'audiovisivo ma l'elemento diciamo significativo è l'uso del digitale in una maniera quindi anche in termini di realtà aumentata di 3D e via dicendo quindi questi sono all'interno dello strand cross settoriale quindi se chiamate noi a quei numeri o se chiamate i nostri colleghi e volete approfondire noi vi organizziamo un incontro va bene allora do la parola adesso alla dirigente dottoressa Amante ah c'è ancora una domanda leggila tu Fiona io non vorrei rispondere a certe domande posso chiedere di mandare un'email alla nostra abbiamo un indirizzo in cui può mandare a nostri email se ha ricevuto le lettere di notifica dovrebbe conoscerlo grazie allora diamo la parola alla dottoressa Amante grazie grazie buongiorno a tutti io cercherò di dare alcune informazioni che sono di contesto non sono così analiticamente già dentro il mondo dei bandi a cui poi voi siete interessati però a volte capire il contesto in cui si collocano queste azioni può essere interessante contesto diciamo istituzionale per capire poi meglio come muoversi a chi chiedere cosa ad esempio proposto del quesito evidentemente improprio per questa circostanza che hanno appena tentato di porre il Desk Italia Europa Creativa ha delle attività che sono state descritte molto bene dalla collega Anna Conticello che ne è il manager questo desk è stato collocato all'inizio del nuovo settennato il nuovo settennato quello attualmente in corso iniziato nel 2021 dura fino al 2027 e in coincidenza con l'inizio di questo secondo settennato il Desk si è trasferito all'interno del Ministero della Cultura dal segretariato generale alla direzione generale creatività contemporanea questa cosa apparentemente solo burocratica in realtà ci dice qualcosa di interessante perché questa direzione generale è di nuova costituzione è nata nel 2020 e è dedicata evidentemente al contemporaneo sia per quanto riguarda l'arte e l'architettura e la rigenerazione urbana ma nell'andare a sostituire la precedente direzione che era appunto arte e architettura e periferie urbane ha portato con sé anche delle nuove inedite competenze e uno dei servizi il primo servizio di questa direzione è dedicato alle imprese culturali e creative e la model design ed è esattamente in virtù poi di questa competenza specifica sulle imprese culturali e creative che il ministero ha deciso di allocare il desk presso questa direzione in maniera tale che ci potesse essere una ottimizzazione dell'azione amministrativa rivolta a questi settori culturali e creativi e sempre sulla scia di questo ragionamento vale la pena qui segnalare che in tempi ancora più recenti con l'avvento del piano nazionale di riprese e resilienza un investimento importante del PNRR per una montata di 155 milioni quindi piuttosto interessante è destinato proprio agli organismi culturali e creativi agli operatori dei settori culturali e creativi ed è stato affidato per l'esecuzione esattamente alla nostra direzione generale proprio perché già aveva altre competenze segnalo in particolare questa coincidenza del PNRR perché è stato veramente importante per noi avere l'esperienza pregressa da circa un anno avevamo già il desk quando abbiamo dovuto affrontare la progettazione di questo investimento che darà luogo a quattro grandi bandi due per la digitalizzazione e due per lo sviluppo green delle imprese culturali e creative e poi questa doppia coppia vede un versante di capacity building e un versante invece proprio di contributi agli organismi per finanziare progetti osato alternativamente il termine imprese ed organismi in realtà parliamo preferibilmente di organismi perché parliamo di tutta l'area profit e no profit ecco un'altra coincidenza con quella che è poi la strategia del programma Europa Creativa e quando abbiamo dovuto andare a delimitare il campo di applicazione di questi investimenti del PNRR lo stesso piano nazionale ci ha indicato il programma Europa Creativa come referente per andare ad individuare e a definire quali sarebbero stati poi i settori di intervento quindi diciamo due grandissimi investimenti europei sull'area della creatività che dialogano anche tra di loro questo poteva essere interessante valeva la pena valeva la pena dirlo sui risultati della partecipazione dell'Italia al primo settennato del programma Europa Creativa c'è stata una pubblicazione che è stata curata proprio dal Desc Italia ma anche dalla fondazione Sant'Agata quindi insomma degli specialisti rispetto anche all'elaborazione dei dati che sono stati raccolti e sui quali sono state fatte delle riflessioni lo accennava prima alla collega ed è disponibile questo studio online nel sito dedicato e tra le informazioni della slide forniti alla collega e lì si può vedere come già l'Italia in partenza già nel primo settennato è stata molto presente con più di 500 progetti con più di 300 organismi perché poi accade che nell'arco dei sette anni vista la molteplicità e la varietà di bandi come avete appena sentito poi lo stesso organismo partecipi nel settennato più volte di cui la differenza tra il numero di progetti a cui hanno partecipato gli italiani e il numero di organismi è molto interessante vedere che nel 50% dei casi circa i progetti a cui l'Italia ha partecipato erano riferiti all'area delle performing arts e il 25% dei casi abbiamo l'editoria e l'atto 25% è abbastanza misto e vario quindi una grande partecipazione soprattutto in queste aree uno degli obiettivi dell'attività del desk è proprio quello di andare ad ampliare cioè laddove c'è scarsa partecipazione lì devo dire che le colleghe ce n'è un'altra anche qui che ci sta seguendo in platea lì le colleghe si fiondano cercando tutte le occasioni possibili per incontrare gli stakeholder per stimolare una conoscenza di questi programmi laddove si ha sentore che evidentemente ad esempio ne parlavamo l'altro giorno l'architettura che è un settore veramente in Italia ricchissimo e avanzatissimo questo lo sappiamo perché come ci dicevamo insomma lavoriamo in una direzione generale che di architettura contemporanea ad esempio si occupa poi magari ha una partecipazione al programma Europa Creativo che non è proporzionata all'effettiva realtà italiana e quindi ci siamo dette dobbiamo assolutamente tanto più che stiamo nella nostra direzione occuparci di diffondere di più questi programmi e di mettere in contatto il settore con questi programmi ancora osservavamo che abbiamo già i dati non solo del 2021 che è il primo anno del settennato in corso ma anche già arrivano alcuni dati non ancora sestati del 22 che mostrano una crescita della partecipazione dell'Italia sia in termini proprio numerici come numero di progetti e di organismi che partecipano ma anche di un passaggio finalmente da solo la piccola scala anche alla scala media ma finalmente nel senso che abbiamo visto come è stato davvero importante che in questo secondo settennato sia stata creata questa scala media che infatti immediatamente ha ottenuto risposta almeno nel primo bienio ha già ottenuto una risposta senz'altro in Italia ma si può facilmente immaginare che per proprietà transitiva che anche negli altri paesi perché è stata proprio questa introduzione che rende più facile la partecipazione perché si accompagna anche ad una richiesta di cofinanziamento meno impegnativa per chi presenza all'istanza sto ripetendo alcune cose da un altro punto di vista cioè andando ad analizzare come si sviluppa e come cresce anche il trend di partecipazione nell'Italia andiamo a vedere quali sono i fattori che lo favoriscono abbiamo nel 2021 alcuni elementi interessanti se andiamo a vedere quali sono i progetti italiani che hanno vinto bandi del programma nel 2021 i bandi erano 5 e per la prima volta troviamo degli italiani che hanno partecipato e vinto il il bando net le reti europee delle organizzazioni culturali e creative che già era stato presente nel primo settennato ma non aveva visto partecipanti italiani che li avessero vinti e lo stesso anche per le piattaforme europee già c'erano stati due bandi di piattaforme europee ma finalmente nel 2021 anche l'Italia ha vinto e grandissima fortissima la partecipazione dell'Italia sempre al bando che ampiamente ci ha spiegato Fiona essere il più partecipato gettonato che è quello della cooperazione e le piattaforme le piattaforme l'abbiamo detto le orchestre ecco c'è stato questo bando che è quello degli enti culturali paneuropei dove sono stati finanziati credo in totale quattro progetti e ben due sono italiani due dato progetti bellissimi di orchestre giovanili composte da elementi provenienti da tutti i paesi europei tra l'altro progetti pluriennali che in un arco disteso di tempo vanno a selezionare i giovani talenti a dare loro veramente delle opportunità straordinarie e l'attenzione ai giovani è veramente traversale vedo a tutti questi bandi perché per esempio tra quelli che hanno vinto il NET tra gli italiani hanno vinto il NET vedo qui il teatro per ragazzi e giovani il teatro Testoni di Bologna che è una realtà storiche e veramente di grandissimo livello del teatro ragazzi che è un importante asset all'interno del teatro italiano che è molto conosciuto anche all'estero che non a caso appunto compare tra i vincitori ma senza insomma entrare nei dettagli volevo semplicemente mettere in evidenza come abbiamo già dai primi risultati del 21 e quelli ancora non del tutto assestati del 22 una chiara indicazione di crescita della partecipazione a questi programmi grazie c'è una domanda vedo prego grazie è più che una domanda forse una riflessione sono dello Europe da Roma Innovazione riagganciandomi un po' a quello che diceva la collega sulla tira che facciamo divulgativa dei tanti finanziamenti europei dei programmi eccetera anche nell'ottica di innalzare diciamo la partecipazione degli organismi degli enti italiani all'accogliere queste opportunità europee che sappiamo sono tantissime e pregevolissime in passato anche come Europa Direct abbiamo fatto le attività seminariali dei webinar per introdurre fondamentalmente alla progettazione europea e ci siamo resi conto di quanto sarebbe importante quindi questo è un suggerimento una riflessione a voce alta con il Descocultura che sta facendo un pregevolissimo lavoro quindi sicuramente non vi manca il lavoro però la riflessione è magari di pensare in futuro di lavorare sullo step diciamo sulla fase di forecast e quindi magari lavorare su per dare più tempo agli organismi potenzialmente interessati a un bando di non lavorare solo nella fase divulgativa di apertura del bando ma potrebbe essere utile magari valutiamo in futuro se lo si potrebbe fare anche insieme diciamo unendo gli sforzi iniziare a veicolare quelle che sono le priorità perché non tutti nonostante cerchiamo di spiegarle di suggerirne l'opportunità vanno a lavorare sulla fase identificativa dei piani annuali quindi sull'individuazione le priorità per tempo e quindi le persone hanno più tempo per prepararsi quindi la riflessione magari si potrebbe valutare di lavorare nella fase informativa preliminare quando ci sono i forecast perché così gli organismi potenzialmente interessati hanno più tempo da una parte di metabolizzare le priorità su cui magari potrebbero sviluppare dei progetti dall'altra di creare quel networking e quei ponti appunto di natura trasnazionale che sono la precondizione per una partecipazione quindi era solo una riflessione per valutare questo elemento perché noi nel nostro piccolo cerchiamo di stressare l'importanza di essere preparati di non improvvisare un progetto questo anche per garantire maggiori possibilità di successo nella fase di valutazione quindi raccontiamo sempre e spieghiamo l'importanza di un'adeguata fase preparatoria del progetto europeo e forse giocare in anticipo appena vengono approvati i piani annuali o biennali insomma di intervento potrebbe essere un elemento di aiuto e di facilitazione assolutamente per noi gli Europe Direct sono diciamo il contatto prioritario sul territorio poi abbiamo anche altri contatti che arrivano dai festival dei settori quindi diciamo quando dobbiamo incontrare un determinato settore specifico però il primo contatto per noi è lo Europe Direct quindi se abbiamo non so dovremmo poi vederlo insieme se strutturare nel futuro una diciamo una informazione sul programma alla rete no? in modo che arrivi a tutti e su magari anche l'illustrazione del work program che noi abbiamo annuale ok potrebbe essere anche una cosa che si fa online quindi lo vedremo in questo modo anche un modo diciamo più democratico di arrivare a tutti e sì perché no però fa parte della programmazione l'anno prossimo quindi vedremo poi con la direzione insomma col coordinamento insomma grazie grazie Anna ci sono altre domande? prego ecco ripeto sono Chiara Vannucchi sono docente alla Sapienza mi occupo di cooperazione europea con l'America Latina e faccio ricerca in sostenibilità ambientale quindi tutto quello che riguarda il mainstreaming ambientale nei progetti di cooperazione in particolare ho un progetto per la produzione di un documentario che riguarda però un cross settoriale sia nel settore cultura quindi tutto quello che è la fotografia e l'arte anche plastica e la tematica diciamo del settore dei media però mi stavo chiedendo una cosa che non so perché per quanto riguarda la cooperazione europea e cioè la coproduzione diciamo europea e internazionale mi chiedevo se tra i paesi elegibili che è una cosa che non sono riuscita a trovare su internet ci fossero paesi dell'America Latina cioè oltre a ok sì ho un problema con questa sedia allora nei progetti di cooperazione si possono fare anche delle attività in paesi che non sono dei paesi del programma quindi si possono coinvolgere entità che non fanno parte del programma i costi non possono essere cioè il costo di un'organizzazione che non fa parte del programma del programma Europa Creativa non possono essere considerati elegibili però si possono benissimo fare delle attività in tutto il mondo se sono coerenti con il progetto stesso ad esempio non so se ci c'è un grande evento nel settore musicale in Canada portare degli artisti emergenti in un contesto canadese e esporli a una visibilità internazionale è benefico potrebbe essere benefico per un progetto quindi se lei deve fare proprio una cosa con l'America del Sud dovrebbe più vedere altri programmi che lavorano più in contesto internazionale se è una questione solamente di fare un'attività in America del Sud perché una ragione X che non conosco potrebbe essere parte di un progetto di cooperazione però avete sempre bisogno del minimo numero di partner a secondo della categoria che dovete insomma a cui siete interessati sì diciamo che il progetto in realtà se posso entrare un po' più nello specifico per capire un attimo se mi muovo nel giusto territorio anche riguarderebbe tutta diciamo la parte storica della porpora fenicia e quindi ci sarebbe comunque una cooperazione all'interno dei paesi europei sicuramente per poi promuovere questa parte della cultura in Messico nello specifico che è un paese che tuttora produce la porpora come facevano i fenici qui diciamo nel Mediterraneo quindi in realtà per quello mi chiedevo se c'è una competenza tecnica di quel paese in relazione a qualcosa sì che comunque cioè la produzione della porpora esattamente secondo la metodologia che usavano i fenici esatto e quindi sarebbe comunque che invece noi abbiamo perso questa competenza esatto quindi la ragione è questa sì la ragione è questa e quindi vuol dire in questo caso è una competenza che dal Messico ritorna in Europa no? sì come perché ci sono delle tracce per esempio quindi potrebbe avere un'altra molto ben spiegata perché non è semplice quindi magari facciamo un incontro più magari ci sono altre domande e online abbiamo centinaia di persone collegate ok va bene allora grazie a tutti i nostri relatori abbiamo un piccolo rinfresco qua siete tutti invitati grazie 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 grazie